Uuuuh... 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 Oh... Uuuuh... Weee! Brutto pezzo di camperista! Come stai? Benvenuto sul mio canale, vivere in casa, ma chi te lo fa fa? Statene in camper! No, aspetta... Ma non era vivere in camper, ma chi te lo fa fa? Statene a casa... Mi sa che mi sono confuso, eh? Forse per via del fatto che, dato i lavori babilonesi che sto facendo al mio camperozzo sono da un paio di mesi in un appartamento Eh, chi lo avrebbe mai detto? L'armando intrappolato tra le mura domestiche che poi ti dirò, non è neanche male Ahahahah Benvenuto, bentornato sul mio canale che si chiama sempre vivere in camper ma non quando il camper è allo stato prado di lamierato Oggi parliamo appunto delle differenze tra la vita del full timer in camper e quella del full timer in casa Devo dirti che in otto anni ci è capitato diverse volte di fermare il nostro viaggio perpetuo ma questa volta la soluzione che abbiamo trovato è molto ma molto più comoda La prima volta è stata nel 2015 quando quella santa noda di mia madre ha preso il volo verso l'alto dei cieli sono stato per tre mesi vicino a lei nella sua casa pur sempre dormendo nel camper questione di spazi e di abitudine forse la seconda volta invece è stata nel 2017 quando abbiamo rifatto completamente la carrozzeria del nostro mezzo in Grecia per i primi due mesi abbiamo trovato un piccolo appartamento in affitto vicino all'officina senza cucina con due brandine tipo esercito e con la doccia senza pressione che a confronto il nostro bel camper osso sembrava una suite della storia L'ultimo mese il proprietario ha deciso di interrompere l'affitto e l'unica soluzione è stata quella di recuperare un letto e piazzarlo proprio dentro all'officina tra un motore di un Golf 3 e un Vesfalia sincro a questo giro sapendo che i lavori da affrontare non sono proprio fattibili in una settimana abbiamo cercato e trovato una soluzione più comoda eh, ogni tanto un po' di comodità ci sta no? c'è anche chi mette in dubbio il fatto che siamo full timer e che vuoi? Che anche quando riparo il mezzo dormo sulla lamiera? ma anche no in questo momento la vita casalinga ci sembra più una vera e propria vacanza eh sì, hai capito bene una vacanza in questo canale ho sempre cercato di dire in questo canale ho sempre cercato di dire le cose come stanno veramente so che anche tu sogni una vita piena di libertà a bordo del tuo bel bestione bianco in giro per il mondo chi non la sogna? purtroppo non è una cosa che tutti possono fare o permettersi di farla sono sicuramente tanti gli ostacoli tra la vita reale e quella sognata la famiglia, il lavoro, l'impossibilità economica il mutuo, la suocera, la piedina e lo subugala milanese ho sempre cercato di metterti in guardia sul fatto che vivere in camper in costante movimento, partire per un viaggio perpetuo non è da tutti e per tutti richiede molta energia, fisica e mentale per riuscire a bilanciare i momenti positivi e quelli negativi ma faccio il lavaggio l'ana o cotone? ti parlo chiaramente di una vita on zero odd chiaro che se mi parcheggi il camperozzo sotto casa de mamma è tutta un'altra cosa ti parlo di nomadismo nel vero senso della parola avere una casa su ruote che si sposta giornalmente per andare a cercare il pascolo migliore e già questo tipo di vita è un lavoro o almeno paragonabile a tale la vita domestica ha chiaramente dei comfort maggiori prendi ad esempio l'elettricità, l'acqua calda tutte cose di cui puoi usufruire come se non ci fossero domani ma ovviamente hanno un costo nel camper invece bisogna spostarsi per avere queste utenze cercare un luogo per il carico e lo scarico trovare un buon parcheggio che possa irradiare bene i pannelli solari un luogo dove tu non dai fastidio e dove gli altri non danno fastidio a te bisogna fare attenzione a non scaricare le batterie e quindi tenere d'occhio tutte le utenze che vuoi utilizzare chiaro anche in casa bisognerebbe fare un uso più responsabile di luce acqua gas e via dicendo in camper ci sei costretto personalmente mi sono sempre sentito uno spirito libero un nomade appunto non ho mai cercato la stabilità nella mia vita sia personale che professionale la stabilità implica il dover porre delle la stabilità implica il dover porre delle radici da qualche parte e con le radici c'è poca libertà di movimento ma dai ho sempre messo davanti la mia libertà individuale rispetto a qualsiasi cosa che mi avrebbe incastrato in mezzo a quattro mura e sono proprio le quattro mura che mi hanno sempre spaventato madoro mattone su mattone costruiamo intorno a noi una bella cella bella per l'amor di dio ma ci dimentichiamo le finestre e l'uscita d'emergenza e quando l'abbiamo finita ormai è troppo tardi non metti in discussione che l'essere umano per vivere ha un bisogno primordiale di sicurezze e questi muri intorno ad ognuno di noi sono proprio le sicurezze la sicurezza di un luogo dove ripararsi e vivere la sicurezza di un posto di lavoro e del conquibius a fine mese la sicurezza di creare una famiglia a tutti Non restare indifferente, campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di mariti in casa. E queste sicurezze nessuno te le regala. E cosa dobbiamo dare in cambio? Te lo sei mai chiesto? Io sì, molte volte a dire la verità, e la risposta che trovavo non mi è mai piaciuta. Anche perché poi, con tutte le sicurezze, nessuno sa cosa succederà nei prossimi 5 minuti, 5 giorni o 5 anni. Alla buonanima di mio padre, che si preoccupava sempre della mia situazione lavorativa ed economica, dicevo Preferisco stare a stomaco vuoto per una settimana che ingabbiato per un anno. Molte volte, ancora prima di partire in viaggio, ho rifiutato molti lavori, solo perché sentivo la puzza di gabbia. Diprivazione di molte cose che rendono la mia vita interessante. Una mano tesa prende la retribuzione, mentre l'altra consegna le chiavi della gabbia. Filosofia spiccia in questo video, da bar dello sport e del quartiere popolare, però vissuta in prima persona. La vita che insieme a mia moglie abbiamo scelto è lontana da queste sicurezze. In questi 8 anni abbiamo passato periodi molto difficili, a volte per questioni economiche, a volte per questioni personali, a volte per pura e classica sfiga. Siamo sempre riusciti comunque ad affrontare queste situazioni nel miglior modo possibile. Non pensare al problema, pensa a come risolverlo. Questo è stato il modus con cui siamo usciti da situazioni difficili e guardando indietro negli anni ci possiamo anche ridere sopra. Il mio spirito comunque rimane nomade e non c'è nessun posto dove lo si può comprare. Nemmeno su Amazon. O c'è o non c'è. Sono scappato di casa quando avevo 17 anni. Purtroppo però le forze dell'ordine mi hanno beccato e riportato all'ovile. Il 21 dicembre del 1994 ho replicato, ma avevo 18 anni un giorno. Mica scemo. Da quel giorno mi sono sempre arrangiato, lavorando come pony express, come barista in bianchino e scaricatore di verdura al mercato comunale. Pagandomi gli studi sia in Italia che all'estero e portando avanti le mie passioni, che dopo anni sono riuscito a trasformare in un vero e proprio lavoro. Uno spirito libero che dall'età di 23 anni si è trasferito all'estero e dopo 11 anni di vita in terra straniera ha deciso di mollare tutto. Avevo infatti riempito il mio zaino, non di cianfrusale ma di esperienze e professionalità, con la sicurezza di poter sfruttare entrambe le cose, anche in viaggio. E fidati che è stata dura mettere quello di cui avevo bisogno in uno zaino da montagna, ma ce l'ho fatta. Difficile staccarsi a volte dei beni immateriali di cui ci circondiamo, ma proprio la collezione di vinili non ci stava nel camper. Il giradischi ancora meno. E devo dire che ho veramente mollato tutto. Capitano, molla gli ormeggi! Beh, sai com'è, in giro c'è anche chi millanta di aver mollato tutto invece. Io al contrario, a parte il mio camper e quello che c'è dentro, non posseggo null'altro. Non ho un appartamento, una casa, un fienile, un terreno, una proprietà insomma. Ed è questo che in realtà mi rende libero. Non aver nulla che mi lega ad un luogo, ad una situazione. La casa c'è, è quella su quattro ruote e dentro c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ripeto un buon detto della mughiera, meno mucche, meno problemi. Sicuramente, come è successo in passato, in questi periodi di pausa, una volta completati i lavori e ritornati al nostro viaggio perpetuo, ci sarà un periodo di transizione dove gradualmente ci staccheremo da tutto il comfort e le sicurezze acquisiti durante la vita in appartamento per ritornare al nostro quotidiano. Fatto di chilometri, sotto le ruote, luoghi da visitare, persone da conoscere, quel pizzico di ignoto che ci dona il sorriso per vivere la vita a fondo. E come ho sempre detto, per questo tipo di vita bisogna avere le bolassa. Non lo dico tanto per elogiare il diametro delle mie. Fidati che in questi anni tante volte si sono sgonfiate fino a diventare due fragoline di bosco. Ci sono stati molti momenti di sconforto, momenti neri, grigi, ma senza sfumature. Mortacci! Ne abbiamo passati di questi momenti e a volte non avere quella sicurezza mette paura, ansia e il più delle volte provoca disastri. Sai quanti piatti sono volati dal finestrino? Alle volte sembrava quasi il tira al piattello. Ma nonostante questo abbiamo sempre trovato il modo di ingranare la prima e spingerci avanti. Anche di poco, ma sempre avanti è. Alla fine tutti noi siamo sulla stessa barca o sullo stesso camper se ti piace di più. Ed ognuno è libero di decidere come vivere la propria vita. Il mio modo di vivere non è né più bello né più brutto di altri. È semplicemente così perché così lo voglio io. E perché mi rende felice. Ognuno ha una scala metrica dove segna ciò che è importante per se stesso. In passato sulla mia scala metrica ci sono stati segni dati dalla mia professione. Dal cosiddetto... Successo! Stavo anche salendo su quella scala. Ma a che prezzo? Forse un prezzo troppo alto per me da pagare. E così la decisione di mollare tutto. Ma proprio tutto. Ho capito che come Sant'Omaso volevo toccare le cose per crederci. Vederle, ammirarle e non guardarle attraverso lo schermo di un computer. Il viaggio, quello vero, quello senza una meta precisa, è ciò che mi ispira giornalmente. È ciò che mi fa svegliare presto alla mattina per essere testimone di un nuovo giorno. Un nuovo giorno, ma in un luogo diverso. Ogni giorno. Circondato dalle bellezze della natura. I suoni, i colori, i... Profumi. Vuoi mettere quel sacro momento mattutino? Meglio dentro un cubetto coperto di piastrelle o circondato da pini secolari? In questo momento ci troviamo bene in appartamento. Solo per il fatto che sappiamo che appena finiti i lavori torneremo alla nostra solita routine. Fatta di tutto ciò che routine proprio non è. Mi accorgo in questi giorni di come non calza più la vita sedentaria nella mia persona. Di come solo uscire a portare i cani ogni giorno, alla stessa ora, negli stessi luoghi, fa diventare la mia vita monotona. Ho provato anche a cambiare luogo, ma quelli poi non cagano. In questi otto anni siamo stati testimoni di momenti indimentecabili. Regalati dalla natura, dal nostro pianeta. Eravamo lì, esattamente dove volevamo essere, nel momento giusto per poter ricevere questo regalo. Il nostro slow travel ci ha sempre permesso di entrare a fondo in ogni paese che abbiamo visitato. Rimanere più a lungo in un luogo ci ha permesso di fare incrociare le nostre vite con quelle di altri. Unirle, condividerle, interscambiarle, per poi portarcele dietro sotto forma di ricordi indelebili. Alla fine, in questo discorso, il camper c'entra relativamente. C'è chi viaggia a piedi, in bicicletta, in motoretta, in barca, ognuno a modo suo. La parte difficile, infatti, non è tanto la vita a bordo di un camperozzo, ma la vita in costante movimento. E alla fine, la fattidica domanda. Siamo liberi? No, purtroppo, non lo siamo. Anche se, rispetto ad altre vite e ad altre storie, riusciamo a distaccarci magari un cicinin di più da quel sistema costruito intorno alla nostra esistenza su questo pianeta. Non siamo liberi per il semplice fatto che dipendiamo in alcuni aspetti della nostra vita da questo sistema, senza non riusciremmo a sopravvivere. Abbiamo sempre cercato però di non entrarci troppo. Diciamo di stare sul bordo e di guardare ciò che accade. Questione di coerenza, come al solito. Non pensare che chi millanta di essere libero lo è veramente. Il più delle volte vuol solo farti credere di essere libero, quando alla fine anche quella persona, magari in maniera diversa, si è chiusa dentro una gabbia, senza nemmeno rendersene conto. Sembra un po' l'illustrazione del cavallo con davanti la carota appesa ad un bastone, no? Si va avanti, ma non si afferra mai. Beh, come avrai capito, il mio io interiore mi dice fa in culo la carota, fammi andare dove voglio io. Magari ne trovo molte di più di carote. E con questa perla di saggezza popolare finisce anche questo video. Mi sono divertito a scriverlo e a registrarlo. Sono sicuramente pensieri molto più profondi e interessanti, spero, riguardo al tema centrale di questo canale. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E ci vediamo venerdì prossimo, come al solito alle 13. Così è e così rimane. So che ti piacerebbe se facessi più video, ma poi vi dovrei fare da dentro una gabbia, no? Ciao bello!